...che Riabita abbia inizio! Taglio del nastro al Fermo Forum per l'edizione 2018 di Riabita, la manifestazione che con oltre 150 aziende proveniente da tutta Italia, che appunta sui temi di sicurezza, costruzione compatibile con l'ambiente esterno, risparmio energetico, fonti di energia rinnovabili, senza trascurare la domotica e tanto altro, con una prima giornata dedicata anche ai più giovani con tanti ragazzi delle scuole. L'accessibilità, i nuovi materiali, insomma un nuovo modo di vivere la propria abitazione con più sicurezza, con più risparmio, con tutti quei benefits che oggi i materiali e i sistemi di costruzione permettono. Questo in fondo è l'obiettivo di Riabita. L'edizione 2018, così come quelle degli ultimi due anni, non può prescindere dal tema della ricostruzione post-sisma, tema che verrà trattato nei prossimi due giorni con numerosi incontri. Ci sono tutti gli attori a cui spetta il compito, insieme alla Regione e ovviamente agli enti locali, di ripensare la ricostruzione, di pensare la ricostruzione come un momento nel quale possiamo veramente fare un salto di qualità come Regione. Dello stesso avviso, l'assessore all'urbanistica del Comune di Fermo, Francesco Nunzi, che sottolinea come a Riabita, sicuri molto l'aspetto formativo, con l'architetto Danilo Colletti ad occuparsi della parte scientifica e convegnistica. Riabita, mi piace sempre dire, è un laboratorio continuo, che lascia ampissimo spazio alla formazione dei professionisti e questo è molto importante rispetto ad altre fiere che ho anche visitato da professionista, da architetto, dove la parte espositiva sicuramente è predominante rispetto a quella formativa. Infine, chiudiamo con Gino Sabatini, neopresidente della Camera di Commercio Unica Regionale, subito a fianco di Riabita. Dovremmo far sì che questo diventi un momento di incontro, di scambio, di trovare quelle progettazioni che possono essere utili alle nostre imprese del settore. Non dimentichiamo che da questo settore noi possiamo muoverci su tanti altri settori come risparmio energetico, come l'eco-compatibilità ambientale, perciò sull'ambiente, sulla green, perciò abbiamo tante possibilità di trovare anche delle start-up che vogliono entrare in questo mondo. Sarà un mondo di gioco, dai bambini agli adulti, abbiamo fatto in modo che chiunque possa entrare e divertirsi. Si potrà giocare da tavolo, giocare con i laboratori di robotica, laboratori di colore, per i bambini c'è anche un'area prima infanzia, piste delle macchinine, di tutto di più. Se visitare il paese dei Balocchi è il sogno di ogni bambino, la Fantafiera di Ancona è il modo giusto per realizzarlo. Torna infatti il 10 e 11 novembre in Piazza Pertini per la quarta edizione, l'iniziativa organizzata tra Dadi e Mattoncini, in collaborazione con Confartigianato Imprese, Ancona, Pesaro e Urbino, che trasforma la Piazza Dorica in una ludoteca per tutte le età. È una idea originale, interessante, che può essere un cavallo di battaglia per i prossimi anni, cioè può essere una di quelle manifestazioni per cui la città si può caratterizzare. Non a caso ho fatto l'esempio, diciamo che l'ambizione che credo gli organizzatori, ma anche la città ha, è di far diventare Fantafiera in Ancona quello che è diventato il fumetto a Lucca, tanto per intenderci, e quindi un prodotto originale, assolutamente originale, che può essere uno degli assi su cui la città gioca un pezzo del suo futuro. E quindi un investimento di lungo periodo. È un'iniziativa qualitativamente molto importante rispetto al contesto del mese che Piazza Pertini sta ospitando, tra Ciocco Marche, appunto, la Fantafiera, l'artigianato artistico, quindi assolutamente quattro iniziative importanti per la città, per il rilancio del centro cittadino, ma chiaramente il rilancio che l'indotto e la gente che porta un'iniziativa come questa su Piazza Pertini e in centro, insomma, è importante per rivitalizzare poi tutte le altre attività commerciali che ne godono di riflesso. La Fantafiera, realizzata in una tenso struttura di 1500 metri quadri, allestita in Piazza Pertini, ospiterà per tutto il weekend stand con centinaia di giochi da tavolo, trucchi di magia, laboratori di robotica e realtà virtuale. È visitabile, inoltre, anche per quest'anno, un'esposizione di opere realizzate con mattoncini Lego e per gli appassionati di puzzle a partire dalle 15 in entrambe le giornate sarà possibile partecipare al campionato italiano di puzzle Revesburger. Un'occasione anche per riscoprire, no, quello che è la bellezza del gioco da tavolo in cui si gioca tutti insieme in un mondo sempre più digitale. Assolutamente sì. Di digitale, come dicevo, lì c'è poco e niente, tutto quello che comunque prevede l'utilizzo di tecnologia viene fatto insieme. E quest'anno, ritornando alla città, abbiamo ridotto leggermente l'esposizione, quindi ci sarà meno esposizione perché vogliamo che ci siano ancora più aree di gioco.